Ciao a tutti ragazzi e benvenuti siamo di nuovo qui con il nostro ormai consueti video offerte allora oggi abbiamo tanti bei titoli indie tutti in offerta ce ne sono proprio tantissimi di ogni tipo beh i titoli indie poi sono i titoli minori cioè non AAA vabbè sì quelli e comunque sono fatti da software house minori però alcuni sono così belli che il nostro sono anche migliori di alcuni AAA però prima di passare ai titoli indie vorrei elencare questi giochi a meno di 20 euro non presenti in questo elenco a parte i doppi sconti che scadono tra qualche giorno ma questi sono ne abbiamo già elencati nei commenti dell'ultimo video offerte abbiamo i giochi a meno di 20 euro che ci sta qualche offerta veramente buona tipo Tekken 7 a 5 euro Unrival 2 a 4 euro anche se se non avete il primo conviene prendere sempre la collega solo si trova la collection The Witcher 3 senza DLC a 6 euro però 6 euro è proprio regalato anche se è meglio trovare quella con i DLC che sta a 15 euro di solito Resident Evil 4 a 8 euro Bioshock collection che sono tutti e tre i Bioshock remastered a 10 euro Darksiders collection questo è proprio ottimo perché sono tre giochi a 8 euro di cui l'ultimo è uscito di recente e spesso si trova a 15-20 euro solo lui e poi Blacksead Under the Skin che è un gioco con questi animali antropomorfico con questo gatto detective che è calato velocemente quindi può significare che non è pescino tanto questo è quello che volevi prendere sulla collection eh sì non so se ne apprendeva più e adesso il gioco da solo sta a 12 euro comunque adesso passiamo invece agli indie veri e propri questi qua dei playstation indie con sconti fino al 75% ah non vi ho detto che i giochi a 8 euro di 20 euro sono validi fino al 4 marzo mentre questi indie fino all'11 marzo iniziamo subito Fall Guys per chi non l'ha preso al tempo gratuito con il playstation plus adesso è un'offerta a 15 euro invece di 20 un'offerta che sconsigliamo perché ormai Fall Guys non se lo pensa più nessuno Gaphead 15 euro invece di 20 il gioco merita soprattutto se si può giocare in co-op tipo noi però almeno per la mia opinione vorrei aspettare che cala almeno a 10 visto che ormai il gioco comunque è vecchiotto anche se è uscito da poco su playstation Sponge proprio perché attendo che sta però costa ancora troppo Undertale non l'abbiamo mai giocato però in tanti lo consigliano come un gran bel gioco e sta in offerta a 9 euro per i possessori del plus Outlast 2 è un'altra nostra mancanza sta a 4.50 Beh anche se c'è sempre la collection Asterix e Obelix XXL3 questo è un gran bel gioco dobbiamo ancora giocarlo e forse lo porteremo Ma è vero non abbiamo provato Ma si sa che è bello perché è Asterix E così sicuramente lo porteremo completamente qui sul canale visto che si gioca in co-op Però l'offerta la sconsigliamo perché noi abbiamo di recente comprato la Collector a 20 euro da GameStop Quindi 14 euro in digitale non conviene proprio assolutamente no Poi vediamo un po' qualche offerta imperdibile Ma moving out Però 15 euro no niente di che Little Nightmare Complete Edition che dovrebbe includere anche i DLC 750 ottimo prezzo Soprattutto se volete comprare i due o se avete appena comprato i due Volete scoprire qualcosa in più sul primo Untitled Goose Game Questo qua vabbè il gioco dell'anno Reale anche per noi Questo qui consigliatissimo a tutti C'è anche la nostra serie qui sul canale 14 euro comunque anche 50 sinceramente Sì Tranquillamente Hollow Knight questa edizione più speciale Ha soli 5 euro 80 invece di 15 euro Questo qui comunque Io l'ho provato Non mi piace tanto in realtà Non è tanto il mio genere Però a molti piace Quindi se lo state cercando Comunque il gioco sicuramente merita E Outlast ha 2 euro 84 Quindi se mi piace il genere Praticamente regalato Ah il gioco della Volpe Ovvero Spirit of the North Questo qua 5 euro 94 Per quanto è solo la versione PS4 Non PS5 Però 5 euro 94 Questo gioco se non mi merita Vorremmo anche comprarlo Non l'abbiamo mai giocato Però c'è sempre ispirato Sì C'ha ispirato Proprio Allora per quelli che hanno il PlayStation VR Vorrei consigliare Moss Che appunto so che è un gran bel gioco VR E a soli 11,99 E merita tantissimo Amnesia Rebirth Uscito di recente Ce n'è state 19,94 Comunque un buon prezzo Rispetto ai 28,50 Originali Però è ancora più un buon prezzo Soma A soli 2 euro 84 Quindi se mi piace il genere Horror Tipo Outlast Beh forse questo è un po' più lento Forse più Layer of Fear Comunque consigliato My Friend Pedro Io questo l'ho giocato sul computer Un annetto fa E' veramente bello e divertente Sono i pesci a tutti Quindi 10 euro ci stanno 9,99 poi eh Andiamo avanti Ah Rise Rise Simple Story Questo è interessante E si gioca anche in cop 12 euro comunque potremmo farci un pensiero Sì se sono noi proprio eh Consigliamo anche a qualcuno Anche solo da giocare in singolo Perché è uno di quei giochi brevi Ma molto profondi e intensi E quindi Consigliatissimo Invece questo che cos'è? Telling Telling Lies Siamo un film interattivo di qualcosa Però è sempre solo in inglese No no Anche italiano Anche italiano Ah questo pure allora potremmo Quanto costa? 10 euro Diciamo che ci sta Però questi giochi di solito sono molto Forti per quanto rigiocabili Quindi più verso i 5-7 euro forse Però vedremo Magari potremmo farci anche su questo un pensiero Se vi piacciono i giochi che sono tipo film interattivi Questo è il gioco che fa per voi Ma non è vero perché non l'abbiamo provato Però vabbè sicuramente Oh cake bash Oh cake bash è bellissimo Però volevamo farlo calare ancora un altro povero 15 euro ancora troppo Sì perché poi è un gioco da fare a passatempo Non è che ti applichi proprio Sì The Complex Altro film interattivo 9 euro e 74 Però questo è solo invece di 13 euro Quindi lo sconto è minimo Sì sì infatti giusto 2 euro proprio per pietà Ah è Daymare 1998 Che in sostanza ricorda molto Resident Evil I primi soprattutto il 2 Punta sull'atmosfera Per quanto però lo stia di gameplay è quello del remake Non è quello degli originali Comunque noi questo ce l'abbiamo Non l'abbiamo ancora mai giocato Beh però l'abbiamo comprato da poco Questo c'è da giustificarsi Abbiamo sentito diversi pareri Chi dice che è solo la brutta copia di Resident Evil E fa schifo Chi dice invece che è bello Riporta molto ai vecchi tempi Diciamo se siete i giocatori più antichi Tipo noi Forse vi può interessare Più nostalgici Più antichi Antichi si dice Ah poi Biped Che a noi ci interessa molto Perché è un gioco da fare in cop Con una meccanica molto particolare Però per noi 9 euro Sono troppi per questo gioco Massimo 5 Lo stesso consiglio che diamo anche a voi Poi abbiamo Late Shift Questo noi l'abbiamo giocato È comunque carino Sì sì questo anzi Probabilmente lo porteremo anche a serie È un altro gioco che merita È molto interessante Adesso costa 6 euro e 24 È sempre un film interattivo Però è carino questo Vabbè è fatto bene È molto interessante È anche la storia È abbastanza vincente Beh se non è vincente la storia Che deve essere vincente Vabbè ci sono giochi che sono fallosi Allora poi abbiamo Youtuber Life 18 euro invece di 30 Vabbè ancora troppo 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 sì The Vanishing of Ethan Carter Questo costa 3 euro e 79 Ed è gratis anche con il PlayStation Now È incluso Quindi noi non dobbiamo ancora giocare Secondo noi giocheremo lì L'avevamo solo iniziato una volta E sembra comunque molto interessante Stile Gonom Observation invece 11,24 Invece di 25 Comunque 11,24 è troppo alto Come prezzo per il gioco in sé Quindi strass consigliato Allora sì Mi sento di consigliare Particolarmente Di queste Instant Indie Collection Costano 1,50 euro Ah quindi proprio gratis Ci sono 3 giochi Così Però di questi posso consigliarvi Sicuramente Il volume 4 Che include Hue È un gioco particolare Perché tu parti con un colore Avanzando nei livelli Ottieni altri colori E Mamanò diventa più difficile Tipo per avanzare Devi attivare un colore Però Attivando quello Arriva un'arma Che ti può uccidere Di quel colore Quindi devi essere molto veloce E il volume 1 Invece Che include Thomas Wo Salon E questo È simpatico Perché è tipo all'interno Di un computer E siete dei cubi Proprio dei rettangoli E quadrati Ognuno ha un colore E una forma diversa Vabbè diciamo Per questo prezzo Non mi sono da consigliare tutte Perché sono 1 euro 3 giochi Sì Vabbè Devono proprio essere 3 giochi schifosi Io comunque Di queste qua Ne conosco solo uno Dei tre Comunque Posso già consigliare Già solo per quello Quindi secondo me Infatti Se avete Voglia di provare Qualche indie carino Comprate direttamente Queste 5 Le collection Andate sul sicuro Quasi quasi Le compriamo anche noi Questo Allora Lo consigliamo A chi si ha iniziato A prendere anche noi Ovvero Never Alone Arctic Collection Che è un gioco Che si gioca sempre in due Dove uno fa la ragazza E uno fa la volpe Sembra carino È un rompicapo Però Non è un'avventura Proprio Poi 4 euro Ci sta Allora Machinarium Giocato su Playstation 3 Posso consigliarle Un gioco carino Enigmi Molto simpatici Siete questo robottino Però è solo in inglese Non è proprio un difetto Visto che Non ci sono grandi dialoghi Quindi se avete questo dilemma Potete comprarlo Anche se non siete esperti In inglese Potete comprarlo tranquillamente Sì Senza problemi Andando avanti Vediamo un po' Cosa c'è Avanziamo un altro po' Vediamo C'è tanta roba Come detto Infatti anche voi Nei commenti Fateci sapere Se ci sono degli indie Che magari avete provato voi Perché noi non conosciamo Sì perché poi gli indie Sono tantissimi Difficile conoscerli tutti Ci sono tanti giochi Che magari passano inosservati E poi sono capolavori Tipo Cut Quest Ah sì è vero C'è questo Siki Che mi ricorda tanto Mario Ah questo Mamma mia Nascosti il gioco Che è dagli stessi creatori Di Untitled Goose Game 1,74 euro È praticamente regalato Quindi Consigliato Anche se una volta L'ho giocato E' arrivata una parte Dei bicchieri Che si mischiavano E Era troppa fortuna Quindi non riuscivo mai A indovinare Ah Stain Ah no Stain è proprio consigliatissimo Stain l'abbiamo portato Anche qui sul canale Anche se è giocato Su Switch E' un gioco molto carino Veramente interessante La storia che Cioè è particolare Quindi non mi sento Vabbè in pratica No vabbè diciamo Cioè il protagonista E' questo ragazzo Che è stato rapito E noi dobbiamo dargli consigli Tramite il computer Sì ed è bello Perché lui parla Proprio con voi Via chat Voi non potete scrivere Proprio i messaggi Che volete Però Hai delle scelte multiple Comunque 3 euro Invece di 12 Ci sta Anche se su Switch L'abbiamo pagato 99 centesimi Anche Tobi Di Secret The Secret Mine Questo è un altro Che abbiamo comprato Su Switch A 99 centesimi Solo che non l'abbiamo provato Non l'abbiamo provato Però ricorda tanto Little Nightmare Quindi Secondo me Merita anche questo Cioè il mio consiglio Cioè il mio consiglio Quando ci sono questi indie E dire Ok voglio spendere 30 euro Fate una Sorta di carellata Come se girate Per il negozio Comprate lì 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 E poi vedete Quali vi fanno schifo Mane che va a buttare Un euro Due euro Poco di più Quella del camaleonte Quella del camaleonte Quella del carino Sì sì L'abbiamo provato Perché era gratis Con il plus Però forse Su PlayStation 3 Comunque era Era simpatico Non è nemmeno tanto ripetitivo Era uno di vari livelli Da superare Siete questo camaleonte L'altro E dovete andare avanti In questo tipo museo E vi dovete mimetizzare Vai avanti Beh Ve lo suggeriamo comunque Visage Gioco horror Psicologico Che in tanti ne parlano Sempre parli di positivi È uscito da poco Comunque qualche mese Adesso sta a 26 euro In offerte Invece di 35 Per noi è ancora troppo Per un gioco horror Così Diciamo Anonimo Però Ecco abbiamo Re Madred Che il primo Il secondo è stato criticato Un po' da tutti Però il primo È veramente bello Noi l'abbiamo giocato Al day one Al tempo suo E adesso sta in offerta A 8,99 euro Invece di 30 È un po' ripetitivo Il gioco Però È carino Ed è particolare Anche la storia Era bella Mi ricordo Consigliato Altra collection Consigliata È Inside Del Limbo Che sono due giochi Staccati tra loro Però sono dagli stessi creatori E costa al momento 6 euro E 74 Non è proprio pochissimo Perché a volte i giochi Si possono trovare anche A 2-3 euro l'uno Però in questo caso Ci sta I giochi sono carini Ricordano anche un po' Little Nightmare C'è in realtà Little Nightmare Che ricorda loro Però Queste loro vengono prima Però comunque Sono consigliati Quindi Beh il genere è quello Il genere è quello Ci sono sempre tutte Quelle varie teorie sopra Quindi possono farvi fare Anche delle belle discussioni Con i vostri amici Consigliatissimo Allora su Nostro interesse Su primo Impatto Possiamo dirvi che questo Sembra interessante Questo Paper Doll Original Che è un po' Un horror sempre Mezzo asiatico E quindi No è tipo un horror In prima persona Sembra interessante Comunque Quindi Se lo vediamo noi Magari io lo vedrei stesso Qui sul canale Se decidiamo di comprarlo E provarlo Allora concludiamo Con questo Outbreak Di New Nightmare Che Ho scoperto Che giorno fa Ce ne sono tantissimi I giochi di questa serie Sembra interessanti Perché ricordano Un po' Resident Evil Almeno in apparenza Ma ho chiesto Un po' in giro E in realtà Fanno tutti quanti schifo Quindi Sconsigliato Non lasciatevi trarli In inganno Lo dico perché Io non li conoscevo Ho chiesto in giro E sono rimasto Abbastanza delusso Aspettavo molto di più Perché avevo visto 4-5 giochi Tutti di questa serie E dico Ah Quando li compri tutti Ci giochi per un bel po' Invece no Ok Questi sono i giochi indie In offerta Sono tantissimi Quindi penso che Meno una decina Sì Una decina di acquisti Ci stanno Soprattutto da quelli Che costano 1-2 euro E ovviamente Allora Fateci sapere Nei commenti Cosa acquisterete E soprattutto Se avete anche Altri consigli Su giochi indie Che magari Non abbiamo citato O perché non li abbiamo visti O perché comunque Non li conosciamo Quindi consigliate Però Il mio consiglio È quello di Aspettare Almeno domani Per acquistare qualcosa Perché comunque Devono annunciare ancora I giochi del Plus Ah è vero Quindi Io volevo comprare qualcosa Però mi sono detto Non è che compro qualcosa E poi esce nel Plus Gratuito Quindi meglio aspettare domani E poi decidere con calma Tanto questi giochi Sono disponibili Fino all'11 marzo Mentre i giochi a 20 euro Cittati all'inizio Fino al 4 marzo Quindi il tempo c'è Grazie mille a tutti Per essere stati con noi Vi invitiamo come sempre A lasciare un like Condividere E iscrivervi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima